Punti, eh. Ah, sono io con Franci, Marek, Keeb e North. Boh, io sto fermo e guardo la partita, allora dai. C'è un'accovacciata vicino, Zen. Ok. È indirizzo questo cazzo. A me, comunque, quelli con tre di corazza hanno dei problemi, eh. Ma quelli con tre di corazza hanno dei problemi, porco, io gli ho sparato troppi colpi. Zero, zero colpito. Pulito. Sto one tap. Ha un attacco, un attacco al caccio. Vai, bana, Cristo Dio, no, per il cazzo. Eh, non posso romperte. Scusa! È la testa quella, eh. È una fuori sta finestra. È la testa quella, dai, non rompermi il cazzo, gioco di me. Però... Uno di vita, uno di vita. Oh, cazzo, vada. Ah, uno di vita, la... Bella. Cioè, guarda, aspetta, non l'ho neanche visto, no? Cioè, io potevo morire tipo tre ore prima. Inchia! Cazzo è, ho basket! Quaritoia, riuscita da sotto. Ciao. È fatto one tap? Ovvio, easy. Ma se mi metto spragliato dietro qua, mi vede da rampinato. Spero c'è un momento di no. Metti la testa, c'è le palle. Muoio, mi vede. Oh, oh, addios. Bufi. Che pusha. È il Q elite, è lui, solo lui ce l'ha. Si, scale, 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 scale. Che bestia. One tap. È angelo, tazzo. Stavo. Cazzo, sono morto. C'è angelo qua. Prefire, prefire. Silenzio. Planta. Eh, raga, tre li ho fatti. No, vabbè. Ci manda di vita. Ma è entrato, c'è la... Bravo. Bravo. Stanno splancando. Non, non so splancando. Ma dopo, 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 dopo. Sì, mi ha vinto. Bravo, Saks. Raga, raga, daie. Dai, raga, ma le tattiche qua, eh. Qua le tattiche proprio. Bravo, Saks. Bravo, Saks, hai avuto una bell'idea. C4, ho fatto la roba. È senza scudo. Oh, Mickey. È senza scudo. Eh, ma c'è Jager, te lo copri. Pure io. Chi lo chiede, ragazzo? Chi lo chiede, te lo copri? Bravo, Saks. Oh, regà. Rompi, termite. Saks è in bomba. So, so. Carpa, va, però, andava. Silenzio. T'è il buco in bagno. Silenzio, lo so, pazienza, silenzio. Questa. Quel cazzo. Che cazzo le triplac ho sparato, regà. Che cazzo le triplac, non l'avete visto da chi su un lottip? No, io l'ho visto. Aratissimo questo. Aratissimo che questo, ciao, bello. Il è il buco in bagno. no no dentro quadruple vg Iq... Iq è one-shot Iq è one-shot beccate questa beccate questa guarda guarda questa è brutta l'ho visto mia coltella mamma mia carata le ho tirato questa sono sogni oh sta push a una fatta back da me back da me scusami eh franci hai pensato su un nemico sorry questo è la clip questo è la clip torato non l'hai visto ho già visto dietro convinto che faremo grandi cose dov'è sono onorato sono onorato sono onorato io vorrei dire una cosa a tutti gli scritti di sax avete ragione sax è nab no oddio che clip questa regà cosa ho fatto ma coglione volevi la giuccia me la giucci te sta di cazzo me la giucci anche te te sta di cazzo con due di vita ma te devi far quello tutte e due è tripla con due di vita dc dov'è madonna che quadruplo con due di vita non lo so una camera matrimoniale faccio il fuori faccio il fuori troppo fatto il legge sta rompendo per me ed è chiuso da me mila volta senza l'ho cadato è rampinato come dice cazzo ma c'ho già calche mi segue arato mamma mia che ha dato io ho tirato a questo è ampiato qualcuno è rampinato gente disattiva disattiva dove l'ultimo chiama chiama dove l'ultimo città città spettata da me basta davanti parato dove piazza g silenzio ce la fai oddio regalo silenzio, 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 silenzio io ho uno bella già si libera una mano, che cazzo oh cazzo oh cazzo l'ho che le che che il che il che il 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 una terra mi sa magari sto a 12 arrivo a quel blitz bravo faccio un altro qua bravo bravo c'è stato c'è stata c'è stato c'è stato c'è stato c'è stato Sì, non è un po' più spalli, già che è in bovico è in roda è dentro il marzo è dentro il marzo non penso che sia in bovico è in bovico è dentro il marzo è dentro il marzo ma che è mai fottuto la ma raga, non so se qualcuno sta guardando ma vuole tipo che le rovane ma non è vicino no come sta? sono già trovando ma da dove raga? se mi lo dite magari? spaccato, demone dove? mio ping? non lo so non lo so bravo, sax rock ok 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 che vado aiuto a dire cosa dove? è l'angolino frat, non va bene mi scucinano l'oro è bene, ti sta coprendo i fusion in quel pasticceria prima ho trovato l'alimenta vediamo ok da desto, ok da desto eccolo no guarda come c***o guarda come c***o no guarda come c***o no no sazzo faremo grandi gol beh ha usato che hai fatto bro? sei droppato dai ma porco dio è tutto eh vabbè che chi usa la calma lassopra lì Grazie.